Questo progetto di riqualificazione dell'ex cinema ed oratorio di Scanzo è davvero importante perché ha messo insieme il pubblico con il privato. Il comune di Scanzo Rociati insieme alla cooperativa sociale Eperan ha deciso di prendersi per mano ed aiutarsi. È stato fatto un investimento davvero importante, un finanziamento poi pubblico che siamo riusciti ad ottenere per completare una parte del cantiere, ma soprattutto un privato che ci ha creduto e un comune che si è anche affidato. E questo progetto servirà moltissimo alle nostre comunità, alle persone più fragile, alle persone più bisognose per rilanciare dal punto di vista sociale ma anche urbanistico il nostro centro storico, il nostro paese.